Bentornati al TG7, duro colpo al mercato fondano degli stupefacenti. Alle prime luci dell'alba di oggi, i carabinieri della Compagnia di Terracina, con il supporto di unitanti droga del nucleo carabinieri cinofili di Roma Santa Maria di Galeria, hanno dato esecuzione a 15 ordinanze di misure cautelari personali. I provvedimenti restrittivi, suddivisi in nove custodie cautelari in carcere, due custodie cautelari agli arresti domiciliari e quattro persone sottoposte ad obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, su richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina Luigia Spinelli, nei confronti di altrettanti soggetti accusati del reato di traffico di sostanze stupefacenti. Dal marzo del 2016, la tenenza dei carabinieri di fondi, muovendo da alcuni spunti investigativi provenienti da altra attività di indagine, incrociati anche con le specifiche denunce di avventori, commercianti e residenti del centro storico, in particolare nella zona del Corso Appio Claudio, ha raccolto interessanti elementi informativi in capo a due gruppi di criminali operanti nel territorio del Comune di Fondi, impegnati nella gestione della piazza di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare Eroino. Un attento monitoraggio dei soggetti finiti sotto la lente degli investigatori ed il successivo sviluppo dei riscontri venuti in rilievo hanno consentito la piena individuazione di identità, ruoli e schemi dei soggetti attinti dalle misure cautelari personali, molti dei quali risultavano gravati da precedenti o pendenze penali, anche per reati specifici, nonché la fedele ricostruzione delle dinamiche di spaccio delle rotte e dei canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti. Fondamentale è risultata la rapida comprensione del linguaggio criptico e dei particolari codici di comunicazione tra gli indagati, mentre i luoghi in cui i soggetti si incontravano per scambiarsi lo stupefacente erano quattro, tutti ricompresi nel territorio comunale ed erano convenzionalmente noti come Kiwi, via Fosso di Lenola, Ulivi, via Fianca, Fontana, località Campo Voario e Fiume, località via Goffa. Sorprendente per altri versi è invece la dimostrata capacità di mutua assistenza messa a sistema dagli indagati che ha il bisogno, nella prospettiva di ovviare alla temporanea indisponibilità di stupefacente, si rifornivano reciprocamente. Molti riscontri obiettivi raccolti durante il periodo oggetto di indagine, tra questi oltre alla denuncia in stato di libertà di alcuni soggetti del luogo, anche l'arresto di tre dei destinatari delle odierne ordinanze di misure cautelari, tra cui una donna di 45 anni e due uomini di 42 e 30 anni, colti nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché attività di sequestro di eroina e metadone. Nel corso delle operazioni di perquisizione effettuate nell'ambito del medesimo quadro operativo, i militari operanti inoltre hanno arrestato uno dei destinatari della misura cautelare in carcere, anche nella flagranza del reato di detenzione e sostanza stupefacente, poiché sorpreso è in possesso di circa 28 grammi di marijuana e di oltre 6 grammi di cocaina. Tragedia a Itri, dove un uomo è rimasto gravemente ferito da un colpo esploso da una fucile di caccia. Sul posto si è reso indispensabile l'intervento dell'eliambulanza atterrata sul campo da calcio del Borgo. Secondo i primi accertamenti operati dai carabinieri impegnati nelle indagini, la tragedia si è consumata in casa del 47enne. Non è esclusa alcuna pista sulle dinamiche all'origine della tragedia, tra questi si fa a strada l'ipotesi di un tentativo di suicidio. E cambiamo decisamente argomento, si è svolta ieri presso il Comune di Lenola una riunione di commercianti alla presenza del sindaco Andrea Antogiovanni, del delegato al commercio Marco Izzi e del segretario generale dell'Associazione Imprese Oggi, Marrigo Rosato. Nel corso dell'incontro è stata approfondita la questione inerente e la recente apertura di una attività commerciale a Marchio Conad in località San Martino, inaugurata lo scorso 31 maggio. Nei giorni scorsi l'Associazione Imprese Oggi ha effettuato un accesso agli atti per verificare la natura delle attività, la regolarità delle concessioni edilizie, la destinazione d'uso e l'agibilità dei locali e requisiti dei titolari. Alla luce dell'accesso e della visione degli atti sono emersi alcune presunte irregolarità che, come comunicato dal sindaco nel corso della riunione, porteranno l'amministrazione comunale a porre in essere un'attenta e puntuale attività di verifica con sopralluoghi e provvedimenti amministrativi conseguenti. Quanto emerso dai accertamenti ha portato alla luce la discordanza tra la superficie di vendita dichiarata, che qualificherebbe l'attività commerciale come un esercizio di vicinato, e la superficie effettiva, che essendo superiore qualifica l'attività come media struttura di vendita, soggetta quindi ad un'altra procedura amministrativa e dal rilascio di autorizzazione da parte del Comune. Il segretario dell'Associazione Imprese Oggi, Marrigo Rosato, ha garantito il massimo sostegno alle iniziative che gli operatori riassociati decideranno di sviluppare per ripristinare la legittimità delle attività conade per approfondire la documentazione inerente e la struttura commerciale. L'iniziativa di imprese oggi è volta alla salvaguardia del tessuto commerciale del Paese, caratterizzato da circa 40 piccoli esercizi di vicinato e pubblici esercizi a prevalente conduzione familiare. Fondi al servizio dei turisti Da sabato 10 giugno, l'Infopoint, sito nel Castello Caetani, metterà a disposizione dei turisti un servizio di visite guidate a cura di guide turistiche abilitate, multilingue e svolto in collaborazione con l'Associazione Proloco Fondi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392 94 32040. Entrambi i servizi sono parte integrante del progetto Fondi le emozioni del borgo, finalizzato alla realizzazione di azioni di marketing territoriale e valorizzazione turistica dell'antico borgo storico, che si concluderà il 29 ottobre prossimo. Il progetto prevede l'attuazione di ulteriori iniziative di informazione e valorizzazione turistica del centro cittadino, tra cui la collocazione di cartellonistica nelle zone d'accesso al borgo, la realizzazione di brochure turistiche in italiano, inglese e tedesco e di laboratori ludico-didattici per bambini ospitati in sedi storico-architettoniche. L'attivazione del servizio Borgo in Bici, che permetterà gratuitamente di percorrere in autonomia piazze e vicoli del centro storico e di effettuare bike tours, spostandosi nelle zone che circondano il centro, visitando la Portella, le mura ciclopiche, il giardino di Villa Cantarano, Porta Vescovo, Piazza Unità d'Italia, lo svolgimento di eventi di attrazione turistica nelle piazze del borgo. È in arrivo il pieghevole interattivo utile ai turisti e visitatori, ma anche cittadini di fondi. Dall'auditorium con il complesso di San Domenico al quartiere ebraico, sino alla cinta muraria che comprende la bella villa Cantarano, il pieghevole illustra in modo efficiente la storia e le caratteristiche dei principali siti di fondi. Il cartaceo, stampato in 20.000 copie e distribuito in tutte le attività turistiche, edicole ed infopoint, può essere richiesto al mail infochiocciolaprolocofondi.it oppure al numero 329-7764644. E parliamo di eventi. Si parte domenica 18 giugno con il motoraduno organizzato dall'Associazione Manuel Riccardi, ragazzo speciale del quarto memoria di Manuel Riccardi, il giovane di 23 anni scomparso nel novembre 2016 in un tragico incidente stradale. Appuntamento alle ore 9 nel piazzale della stazione di Monte San Biagio lungo la via Appia con la colazione presso il ristorante La Bettola. Il percorso proseguirà attraverso i comuni limitrofi con un aperitivo presso il Bross Bar ai 12 di Cirocoppola, approdando per le 12.30 al giro panoramico. L'evento si concluderà con il pranzo convenzionato con l'iscrizione presso il ristorante di Monte San Biagio, Il Capanno, previsto per le 14.00. Il motoraduno vede la partecipazione da ormai quattro anni di centauri provenienti da tutta Italia che in sella alle proprie moto vogliono rievocare le vittime della strada. Grande successo per il nuovo romanzo della casa editrice di 26 lettere edizioni sui altopiani, scritto a quattro mani da Giuseppe Scarpino e Fabio Arduini. Dopo la prima presentazione del libro, avvenuta in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino e il bagno di folla di piazza Santa Domitilla a Terracina, il tour continua con altre due date in provincia di Latina. Venerdì 9 giugno gli autori saranno a Sperlonga, dove dalle 19.00 nella suggestiva location dell'antico caffè Trani, mentre il giorno dopo, sabato 10, sempre alle 19.00, altra tappa a Terracina, presso la libreria Bucart nella centralissima via Roma, conduce gli incontri Antonio Di Trento. Lassù sui altopiani è un libro che coniuga insieme temi quotidiani come l'amicizia e lo sport, quello sicuramente più ecumenico e gravoso rappresentato dalle condizioni di vita nel cosiddetto terzo mondo. E siamo allo sport con la palla a mano, colpo grosso in casa HC Banca Popolare di Fondi. Nella stagione 2017-2018, il posto riservato all'atleta straniero sarà coperto da Milos Filic, che nei giorni scorsi ha siglato un accordo biennale con il Rosso Blu. Il terzino serbo prende così il posto, lasciato scoperto da Boris Greuk, che di comune accordo con la società Rosso Blu aveva deciso di non rinnovare il proprio contratto. La dirigenza Rosso Blu ha svolto un intenso lavoro per andare a puntellare la rosa a disposizione di mister Giacinto De Santis, regalandogli un giocatore di grande spessore ed esperienza. Il vicepresidente Rosso Blu, Guglielmo di Perna, che da quest'anno ricoprirà anche la mansione di direttore sportivo, esprime soddisfazione per il nuovo arrivo. Cercavamo un giocatore con queste caratteristiche, siamo riusciti a trovarlo. Dopo averlo visto all'opera nelle ultime stagioni a Gaeta, penso che Milos possa diventare un importante punto di riferimento per l'HC Banca Popolare di Fondi. Il suo arrivo, insieme a quello di Francesco Rigante, dimostra la nostra volontà di restare tra le prime società in Italia e di continuare a rinforzare la squadra. Molto entusiasta anche il giocatore, che ci ha spiegato le sue motivazioni del trasferimento a Fondi. Ho scelto Fondi per due motivi fondamentali. Conosco diligenza e giocatori e sono certo che mi adatterò subito al nuovo ambiente. Penso che questa sia una nuova opportunità per mettermi in gioco e dimostrare di poter essere parte integrante di questo bel gruppo. Darò del mio meglio, come nelle precedenti esperienze. Spero di aiutare la squadra a realizzare le ambizioni della nuova stagione. Questa edizione del TG7 termina qui. Per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci alla nostra mail redazione chiocciola tvcanalesette.it o sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito internet tvcanalesette.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete. Grazie. Grazie.